Il problema è che molti si vergognano di dire che non hanno avuto grandi esperienze con il digitale Cosa tranquillissima, perché non è che tutti siamo stati votati in digitale Per cui, data la vergogna di farsi vedere, di far vedere che a 22-23 anni non sanno nemmeno accendere il computer